Che libri sta leggendo Madame Ginoux nel celebre ritratto che le ha fatto Vincent Van Gogh? La donna che assistette l'artista dopo il celebre episodio del taglio dell'orecchio era la proprietaria di un caffè ad Arles, ma soprattutto ha rappresentato una figura materna per Van Gogh. Lei lo aveva sostenuto durante le sue prime crisi depressive, di cui anche lei era soggetta, e tra i due c'era un rapporto di empatia e sostegno reciproco. Ci sono altre cinque versioni di questo ritratto, in questa in particolare si possono vedere i titoli dei libri che Madame Ginoux ha di fronte, Cantoni Natale di Dickens e La capana dello zio Tom. E voi con quali libri vi fareste ritrarre? Io sicuramente non mi accontenterai di due titoli.